Buonasera, buonasera da Onda di Gino, apertura subito la cronaca, ubriaco alla guida finisce su due auto in sosta e semina il panico in via Papa Giovanni XXIII a Sulmona. Così un sulmonese è stato denunciato per guida e stato di ebrezza, ma sentiamo meglio nel nostro servizio. Stava transitando lungo via Papa Giovanni XXIII quando ha perso il controllo del mezzo e è andato a sbattere su due auto in sosta nei pressi del chiosco di frutta e verdura. Per un sessantenne di Sulmona è scattata la denuncia a piede libero per guida e stato di ebrezza. L'episodio risale al tardo pomeriggio di ieri quando l'uomo, a bordo di una Renault Scenic, ha creato fibrillazione nel quartiere generale di via Papa Giovanni per la sua brusca manovra. Mentre stava transitando lungo il viale avrebbe perso il controllo dell'auto finendo su due vetture in sosta, entrambe visibilmente danneggiate. Ad accorgersi del fuori programma sono stati passanti ed esercenti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha effettuato rilievi di rito. Sono scattati quindi tutti i controlli del caso. Il sessantenne è risultato positivo all'alcol test in ospedale e starò sottoposto agli accertamenti del tasso endemico. E' stato quindi deferito l'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza. La procedura prevede in questi casi anche il sequestro dell'auto e ritiro della patente di guida. Per i proprietari delle due auto in sosta che hanno fatto la mara scoperta una volta tornati sul posto è stata una brutta disavventura. Spunta una bomba d'aereo in un cantiere di viale del lavoro. Allarme rientrato solo ieri in tarda serata. La bomba infatti era silente. Sentiamo tutto nel nostro servizio. E' silente l'ordigno bellico ristalente alla seconda guerra mondiale. E' rivenuto ieri pomeriggio in viale del lavoro a Sulmona in un cantiere dove si sta realizzando un capannone. Il risponso degli artificieri dell'esercito è arrivato alle 22.37 dopo quasi due ore di controlli e verifiche che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. L'ordigno sarebbe stato sganciato da un aereo durante il secondo conflitto mondiale. E' lungo 70 centimetri e ha un peso che oscilla tra i 15 e i 25 chili. Nel tardo pomeriggio, dopo il ritrovamento avvenuto nel cantiere da parte degli acquirenti del terreno, sono scattate tutte le misure di sicurezza che hanno portato alla chiusura della strada, all'attivazione del presidio di protezione civile, all'intervento degli artificieri dell'esercito che hanno analizzato il tipo di ordigno. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, aveva predisposto un piano di evacuazione in caso di necessità, preparando tutti gli atti insieme al neoassessore e alla protezione civile Salvatore Zavarella. Per lui è stato un battesimo tutt'altro che tranquillo. Gli artificieri all'esilo dei controlli hanno stabilito che l'ordigno è silente, in quanto tale non in grado di esplodere proprio in mancanza della spoletta. Diversamente poteva esplodere nel raggio di un minuto o sette giorni. E c'è stata quindi l'emergenza con la riapertura della strada, del conseguente respiro di sollievo da parte dei residenti della zona. Fortunatamente la vicenda si è chiusa nei migliori dei modi, richiarato il sindaco Anna Maria Casini nella nostra diretta live, che ha tenuto aggiornati minuto per minuto quanti hanno vissuto momenti di apprezzione. Possiamo tranquillizzare tutti i residenti, perché non ci sono un pericolo lì. Pertanto, oltre ad essere stato riaperto anche la viabilità, non c'è necessità di nessuna evacuazione. Nei prossimi giorni adesso si organizzeranno gli artificieri e porteranno l'ordimio in un luogo adibito proprio perché venga fatto brillare. Il posto ci hanno appena comunicato che tutto è tranquillo, non c'è nessun problema. Bisogneranno soltanto carabinieri e polizia affinché a nessuno venga in mente di andarselo a fare. Indubbiamente è stata una notizia bomba, come ha sottolineato qualcuno, strammatizzando i toni, ironizzando sul caso. Ma si tratta di una bomba innocua. Nei prossimi giorni l'ordimio su disposizione della prefettura sarà rimosso dalle artificieri e fatto brillare in altro luogo. Le forze dell'ordine vigileranno la zona per evitare che qualche curioso non si avvicini all'ordimio. Tutto è bene, quel che finisce bene verrebbe da dire. Contatore manomesso a sua insaputa, assolta una 35enne di Sulmona dall'accusa di furto. Il nostro servizio. Lei, come tutti gli inquilini della palazzina di Piazza Tacito, non avevano più l'energia elettrica e il suo contatore fu rinvenuto completamente divelto e danneggiato, nonostante il danno subito dovuto affrontare il processo che si è chiuso l'altro giorno, davanti al giudice monocratico del tribunale di Sulmona Francesca Pinacchio, con la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. Protagonista della vicenda è la 35enne Sulmonese Elena Scarpone, finita sotto inchiesta per furto. Secondo l'accusa quella sera del 15 dicembre 2015, la giovane, al fine di trarne profitto per sé, si era impossessata di energia elettrica mediante la manomissione del contatore, idoneo ad alterare il sistema di misurazione dei consumi e prelevando un quantitativo di energia elettrica pari a 1.923 kWh. Il quadro accusatorio è caduto nel corso del processo penale perché non si è riusciti a dimostrare che quel furto di corrente era imputabile alla Scarpone, che all'epoca dei fatti si recava nel condominio solo per assistere lo zio ed era stata proprio lei a contattare i vigili del fuoco e polizia per accedere al vano contatore dopo il blackout che aveva interessato l'intera palazzina. La 35enne è assistita in giudizio dell'avvocato Silvia Iafolla e starà quindi assolta con formula piena per non aver commesso il fatto. E ora veniamo all'edilizia scolastica, ancora con l'istituto Delino Morandi, per il nodo dei due lotti, quindi del frazionamento dei lavori, lunedì si riunirà sul mona la commissione provinciale. Facciamo il punto nel nostro servizio. La questione dell'edificio scolastico che ospitava gli istituti Delino Morandi sarà il centro della commissione provinciale per l'edilizia scolastica e pubblica che si riunirà nell'aula consigliare di Palazzo San Francesco e prossimo lunedì 17 febbraio alle ore 10, alla presenza del presidente di commissione, il consigliere provinciale Francesco De Santis, del sindaco della città di Sulmona Anna Maria Casini, del presidente del consiglio comunale di Sulmona Catia Di Marzio, dei capigruppo consigliari del comune di Sulmona. Si tratta di una riunione molto importante. Ringrazio il consigliere comunale provinciale Andrea Ramonno e il consigliere comunale Elisabetta Bianchi per l'impegno profuso in questi mesi, riportando al centro dell'attenzione questo tema importante per la città, afferma il presidente del consiglio comunale Catia Di Marzio che dà l'ufficialità sulla data della seduta di commissione rispetto a quanto annunciato da Onda Tg. A chiedere la seduta della commissione a Sulmona è stato il consigliere Ramonno. La commissione dovrà sciogliere il nodo refrazionamento dei lavori sulla sede storica in due lotti, dopo la nota che il proprio ritorato, soggetto attuatore per l'esecuzione degli interventi, e inoltrato alla provincia. I fondi a disposizione non coprirebbero l'intero intervento su tutto il plesso. In commissione si parlerà anche delle soluzioni al baglio per il rientro a Sulmona in una nuova sede provvisoria. E ora la sanità perché i fondi, come avevamo anticipato noi di Onda Tg, sono insufficienti e quindi il comune di Prato-La Peligna pensa al piano B per la RSA da realizzare sul territorio comunale. Il nostro servizio. Servono un milione e mezzo circa di euro in più per realizzare la RSA Prato-La Peligna rispetto ai 3 milioni di euro recuperati dall'amministrazione De Crescentis. La conferma è arrivata ieri nel corso del summit tra il comune di Prato-La Peligna e l'As, la Vezzano-Sumona-L'Aquila. Per sbloccare la situazione è stato proposto all'azienda sanitaria un piano B, vale a dire realizzare la struttura al posto della scuola elementare di Valle Madonna. Il manager, dichiarano sindaco e vice sindaco di Prato, la rispettivamente Antonella Di Nino e Nunzio Tarantelli, ci ha confermato che servono un milione e mezzo circa di euro in più rispetto a finanziamento originario dei 3 milioni perché, come era ampiamente prevedibile, sono necessarie risorse aggiuntive per l'adeguamento sismico della struttura dell'ex scuola media. Peraltro non erano state neanche considerate le coperture finanziarie per la successiva gestione della struttura. Dinanzi a tutta questa serie di problemi al direttore generale abbiamo prospettato anche un piano alternativo, quello di valutare la realizzazione della struttura al posto dell'ex scuola elementare di Valle Madonna, chiusa a seguito del sisma nel 2009. Su quartiere, continuano i due, stiamo predisponendo gli atti per lo sblocco della viabilità su Via Cerrano e l'area in questione potrebbe ospitare in maniera più idonea e funzionale una residenza costruita ex novo. Nei prossimi giorni valuteremo gli aspetti tecnici e amministrativi con la regione e con la stessa ASL. Non vogliamo perdere finanziamento, abbiamo mosso rapidamente i passi necessari per la realizzazione di una struttura importante per il territorio a protezione delle fasce più deboli della società. E ora il post-sisma a Raiano, finalmente partono i lavori nella chiesa di Sant'Andrea che è ormai danneggiata dal sisma del 2009. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Cantiere aperto a Raiano per i lavori di riparazione dei danni della chiesa di Sant'Andrea Apostolo causati dal sisma nel 2009. Dopo un lungo percorso il Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo, il segretariato regionale per l'Abruzzo ha effettuato la consegna dei lavori che dovranno essere ultimati entro il 29 settembre 2020. L'intervento previsto dalla programmazione triennale 2016-2018 è stato finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1,9 della legge 23 dicembre 2014 numero 190 per un importo di 500 mila euro. Ci sono voluti diversi anni per arrivare alla definitiva soluzione del problema. Diversi sono stati gli incontri, i solleci delle richieste compiute dall'amministrazione comunale per accelerare l'iter progettuale. Finalmente siamo arrivati alla conclusione e sottolineano dal Comune. Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la soluzione del problema. Un ringraziamento speciale va a RUP Panfilo Porziella della sovrintendenza APA Babruzzo per la caparbietà con cui ha affrontato la problematica. Un ulteriore ringraziamento va a Forgione Elio che da nostro concittadino nonché funzionario della medesima sovrintendenza ha sempre dimostrato attenzione e impegno per addivenire la soluzione ai proprietari dei terreni limitrofi che hanno garantito l'accesso all'impresa in caricata dei lavori per una migliore organizzazione del cantiere. La politica del fare insomma esiste ancora a Raiano. Come al solito noi ci fermiamo solo per poco più di un minuto a fra poco con le nostre notizie. Shop Cinemarket 2000 metri quadrati di convenienza Shop Cinemarket strada statale 17 zona industriale sul Mona questo messaggio è rivolto a chi ha le mani in pasta Demetra Farine seleziona le migliori farine ad uso professionale per panificatori ristoratori pizzaioli e pasticceri ma non solo ascolta e si impegna anche a conoscere a fondo il cliente in modo da potergli offrire le farine più adatte alla sua specifica attività con la linea speciale di farine in fibra per pizzerie vi forniamo anche preziosi consigli tecnici da un qualificato istruttore pizzaiolo Demetra Farine e garantisce forniture costanti tutto l'anno con consegna a destinazione Demetra Farine a Sul Mona statale 17 chilometro 94-75 località Santa Brigida per informazioni 0864 43-55-06 Luigi Liberatore presenta i veri salti le grandi firme dell'abbigliamento uomo-donna le nuove collezioni dei marchi più prestigiosi per la prima volta scontate del 50% dai classici intramontabili ai brand più di tendenza da Luigi Liberatore vestire alla moda non è mai stato così conveniente centro acquisti Le Pratelle Prato La Pelligna seconda parte di Onda Tg mezzo secolo di professione per l'avvocato della causa sulmonese così è stato ribattezzato questa mattina al tribunale scoppiata la festa per Lando Sciuba vediamo tutto nel nostro servizio grazie a tutti l'educazione l'educazione fatta in persona l'innato senso del dovere la piena disponibilità a entrare nel cuore delle singole problematiche per l'avvocato le foro di Sulmona Lando Sciuba è scattata la festa questa mattina nell'Aula 1 del Palazzo di Giustizia in occasione del 50esimo anniversario dell'escrizione nell'ordine degli avvocati una straordinaria sorpresa vedirla con le parole del festeggiato è anche ben riuscita prima l'ingresso tra la folla di colleghi e magistrati poi abbracci strette di mano discorsi l'omaggio di una targa da parte del presidente del Consiglio dell'Ordine Forense Luca Tirabassi Emozionatissimo e visibilmente commosso l'avvocato Sciuba ha incantato la platea di avvocati accorsi per la sua festa in questi 50 anni il mio è stato un praticantato perché mi sono solo sforzato di fare il mio dovere esordito per ripercorrere in breve le tappe più significative della sua carriera fatta di impegno e abnegazione verso la professione Sciuba ha voluto rivolgere un pensiero a quei poveri quei disperati quei senza nulla che mi hanno onorato dice della loro amicizia citando nomi della sulmona di un tempo come Domenico Stiglio Tonino ha detto mezza botte Antonietta e mezzo litro e una gassosa io ringrazio per queste parole e per questa testimonianza di affetto non credevo di meritare tanto mi considero un destinatario un meritevole di tanto riguardo e di tanta attenzione io ho cercato solo di fare il mio dovere come professionista e come cittadino cittadino di questa città e di questo centro nulla e mi auguro che anche Aro di fronte alla città e al comprensorio in livello e propria agonia sappiano togliere l'occasione di riarmarsi moralmente e civicamente per salvare e salvare l'avvocato ha concluso lanciando un monito ai colleghi più giovani di sapere che vale anche per noi il motto della scienza si studia per apprendere e si apprende per studiare un discorso che ha fatto vibrare il cuore nonostante la forte emozione un avvocato che si è speso non solo per le cause ma per la causa sulmonese come ex sindaco difensore del tribunale nella comune Battaglia presidente della fondazione Capograssi e l'avvocato Sciuba vanno i nostri migliori auguri e alla giornalista Rai Maria Antonietta Spadorcia è stato consegnato il premio Ovidio Giovani del Polo Ovidio per noi c'era Gaetano Trigiglio L'ampio progetto didattico premio Ovidio Giovani non ha esaurito la sua spinta propulsiva ancora una volta gli studenti dell'istituto di istruzione superiore Ovidio veri protagonisti del progetto hanno consegnato il premio alla giornalista Maria Antonietta Spadorcia originaria di Prezza già studentessa del liceo classico Ovidio oggi affermata giornalista parlamentare del Tg2 un attimo non abbiamo finito grazie grazie emozione tantissima anzi prima mi è scesa anche una lacrimuccia perché comunque per me questa è la mia comunità questa è la mia terra questo è il mio liceo i ragazzi li ho già incontrati qualche mese fa e ritengo che siano sia unico per me ritornare e ricevere un riconoscimento che spero di meritare questi ragazzi sono cresciuti bene in una comunità e in una scuola che li sta orientando benissimo sono molto concreti ma soprattutto hanno quel cuore che è grande che permette poi di scalare veramente le montagne Maria Antonietta ha accolto con grande soddisfazione il premio deciso dai giovani studenti che in gran numero l'hanno attesa nell'aula magna del liceo Mazzara presenti alcuni docenti giornalisti presente la dirigente scolastica dottoressa Caterina Fantauzzi infaticabile promotrice del premio Ovidio giovani quest'anno abbiamo rispettato gli impegni delle personalità che abbiamo scelto per questa premiazione ricordo che i premi sono stati scelti i premiati sono stati scelti da una commissione composta da rappresentanti di istituto e ogni indirizzo del polo liceale Ovidio ha ogni ragazzi di ogni indirizzo hanno scelto il proprio beniamino da premiare Maria Antonietta non si è fatta attendere ha avuto qualche momento di emozione ma con grande impegno ha raccontato ai ragazzi attentissimi la sua storia di giornalista le difficoltà iniziali e poi pian piano l'affermazione è stata tra l'altro prodiga di consigli nei confronti di quei ragazzi che intendono avventurarsi nel difficile ma esaltante mondo del giornalismo io credo che studiare come stanno facendo questi ragazzi mi dicevano prima delle professoresse che ci sono ragazzi che hanno tutti dieci e che traducono dal latino insomma come se parlassero veramente italiano sono bravissimi la scuola li può aiutare io posso solo portare la mia testimonianza e ora torniamo a diciamo a Sulmona con la festa del Santo Padrono mancano i fondi e quindi la festa di San Panfilo rischia un ridimensionamento sentiamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio la questo è partita secondo la tabella di marcia ma i grandi assenti per il momento sono propri contributi da parte dei sulmonesi ed è così che la festa civile di San Panfilo patrono della città di Sulmone e della diocesi di Sulmona Valva rischia un ridimensionamento per mancanza di fondi l'appello viene lanciato proprio dal comitato feste dell'omonima parrocchia sulmonese che da qualche anno a questa parte ha rimesso in piedi anche la parte civile della festa sotto tono fino a qualche anno fa tutti vogliono il ritorno ai fastidi e passato con i grandi botti i grandi nomi ma gli sforzi organizzativi non si supportano con le chiacchiere quella del comitato vuole essere più che una reprimenda una supplica per chiamare raccolta la città torno a suo santo e a divenire alla realizzazione di una festa civile che accontenti un po' tutti abbiamo iniziato la quest alla tre settimane è vero che c'è tempo fino a 28 aprile ma l'organizzazione di una festa ha i suoi tempi e noi vogliamo creare qualcosa di bello aggregante per la città spiegano dal comitato il grido dei volontari non può passare inosservato nella città dove l'esercizio della lamentela supera di gran lunga l'esercizio del fare eppure nelle nostre raccolte di opinioni che abbiamo condotto negli ultimi anni come dimostrano le interviste d'archivio si parla molto di rilancio auspicato della festa di San Panfil la verità è da molti anni che è sottotono rispetto a tutte le altre piccole feste di Solomona perché evidentemente non si va dando d'accordo tra i quartieri qua a Solomona come invece in altri paesi attorno sono tutti uniti per far riuscire la festa la differenza di adesso sai chi è che prima si faceva una bella festa la musica la band tutto e l'illuminazione ora non si fa più niente cambiato tutto prima era la festa di San Panfil ma adesso perché manca secondo me manca il turismo l'unica cosa da fare è provare comunque sia invitare gente fare un po' di pubblicità in giro non ho idea comunque la festa del Santo Patrono è sempre un evento importante per la città di Solomona va rispettato e speriamo che si possa avere il Padrono è l'ultimo cavaliere l'ultimo si dice acquaruolo questa festa io mi ricordo da ragazzo non ha fatto altro che piovere non ha fatto altro che piovere e quindi è una festa un po' sottotono sta diventando anche perché San Panfilo una volta molti Panfilo si chiamavano i cittadini di Solomona poi è andato scemando piano piano poi è una festa che praticamente non si organizza più una volta si organizzava alla rotonda del giardini pubblici la banda è una tradizione che è scomparsa e quindi sotto a chi tocca verrebbe da dire intanto la campionessa del mondo riciclismo Alessandra Dettore ha incontrato nei giorni scorsi gli alunni dell'istituto Mazzini Capograssi Domenico Verlingeri La settimana dello sport promossa dall'istituto comprensivo Mazzini Capograssi si è conclusa con un evento al cinema pacifico di Sulmona per riflettere sui valori importanti dello sport che devono costituire un patrimonio comune il risultato è stato quello di parlare ad una platea di giovani attenti alle problematiche dell'inclusione legata agli sport paralimpici due argomenti fondamentali che riguardano i ragazzi perché saranno il domani i ragazzi sono stati particolarmente attenti finalmente abbiamo un parcon scenico che magari anni fa potevamo solo immaginare oggi in realtà il mondo dell'inclusione è la possibilità di inserire ragazzi diversamente abici paralimpici in un contesto sportivo e sociale senza barriere ancora prima mentali che quelle architettoniche Cusì Mauro Sciulli Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico che ha dialogato con gli alunni delle scuole medie Giuseppe Capograssi di Sulmona Romualdo Parente di Scanno e della media di Pacentro per spiegare ad esempio la differenza tra olimpiadi e paralimpiadi la paralimpiade è una diciamo olimpiade per le persone che hanno delle disabilità mentre quelle olimpiade per persone senza intervento importanti le testimonianze degli atleti paralimpici Pierpaolo Addisi della Nazionale Italiana di Paraciclismo ed Antonio Cippo della Nazionale Italiana di Tennis in Caronzi tante emozioni con i ragazzi della scuola grandi passi avanti che sono stati fatti soprattutto nel mondo della scuola dove l'informazione ha fatto sì che i ragazzi ormai parlano di disabilità come un argomento diciamo facile molto particolare il fatto che loro sono stati veramente molto molto attenti alle storie raccontate da me e da Pierpaolo che sono state storie oltre che sportive ma anche storie di vita molto importanti lo sport come insegnamento di vita per la conquista di traguardo un esempio tangibile è quello di Alessandra De Torre campionessa mondiale juniors di ciclismo nel 96 ed europea under 23 nel 2000 la sua presenza è stata fortemente voluta per fare tesoro dei suoi lunghi anni di attività nel ciclismo la giornata di oggi sicuramente non è servita solo ai ragazzi anche a noi a noi ospiti a me a Pierpaolo queste sono cose reali della vita la docente di educazione fisica Alessia Saravellone traccia il bilancio dell'evento e della settimana dello sport che giunta alla sesta edizione ha visto circa 240 ragazzi impegnati in diverse discipline il bilancio della giornata e della settimana è molto positivo soprattutto per quanto riguarda i ragazzi che sono stati esemplari tutti gli istruttori sono complimentati perché hanno avuto un atteggiamento veramente propositivo e ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia 5 murales di grandi dimensioni sulle nuove strutture che saranno realizzate nella scuola Capograssi previste nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ed edeguamento sismico che il comune di Sudmona ha affidato ad aggruppamento temporaneo di imprese MC costruzioni edili applicazioni speciali dell'edilizia vincitori di gara si tratta di un'iniziativa innovativa che abbiamo accolto con grande entusiasmo nell'ottica della valorizzazione dell'arte coniugando cultura sicurezza ed estetica ringraziamo per questo il raggruppamento temporaneo di imprese promotore del progetto che ci consentirà di restituire una scuola sicura e con valore artistico aggiunto ritengo che questo lodevole progetto veicoli nei giovani un segnale inclusivo contribuendo a avvicinarli all'arte e alla cultura contiamo di restituire l'edificio scolastico nel più breve tempo possibile affinché possa tornare ad essere una delle scuole più innovative della città afferma il sindaco Anna Maria Casini nel giorno di avvio del concorso che durerà fino al 20 marzo prossimo la selezione dei progetti che saranno realizzati a maggio prossimo sulle torri dissipative in acciaio della scuola sarà coordinata dal laboratorio d'arte MAV con il supporto di Valentina Colella artista e curatrice indipendente Marco Maiorano operatore culturale e curatore artistico in sinergia con il comune la scuola Capograssi e raggruppamento di imprese promotore del bando scopo del progetto è quello di valorizzare e comunicare un'opera innovativa di ingegneria antisismica di grande impatto visivo nel sito dell'edificio scolastico l'obiettivo inoltre è quello di promuovere il murale come forma creativa ed espressiva delle giovani generazioni in grado di rivalutare e riconquistare in senso estetico e sociale spazi e luoghi cittadini chi partecipa al concorso è chiamato a presentare un progetto per una sola torre dissipativa entro il 20 marzo 2020 saranno selezionati cinque progetti che verranno realizzati a maggio 2020 e ora la scherma con la sulmonese Emanuela Spica convocata alla finale degli europei in Croazia ce ne parla nel servizio Domenico Verlingeri la sciabolatrice sulmonese Emanuela Spica è stata convocata dal commissario tecnico della nazionale Giovanni Sirovic per la finale dei campionati europei di scherma ma in programma in Croazia dal 22 al 26 febbraio L'atleta quindicenne della Ginnasium Schermaclub di Sulmona si misurerà sia nella gara individuale femminile che in quella squadre come componente della rappresentativa azzurra Under 17 che vede la presenza di quattro atleti italiane e tra loro c'è appunto Emanuela Spica Dopo le esperienze alle competizioni del circuito europeo cadetti con una medaglia d'argento nelle prove individuali in Germania ed un oro nelle prove a squadre di Londra insieme all'altra sciabolatrice Peligna Maria Pia Carducci arriva il prestigioso riconoscimento della convocazione nazionale che preme anche l'impegno dei tecnici della Ginnasium della Ginnasium Schermaclub il presidente della società Quintino Moca sottolinea la crescita in città del movimento con poche risorse afferma e con i sacrifici dei genitori la Schermapeligna riesce a portare a grandi traguardi i propri atleti come anche in passato accaduto con altri rappresentanti locali a dimostrazione dei notevoli progressi la città di Sulmona si appresta ad ospitare per il secondo anno consecutivo il Grand Prix Kinder più Sport a squadre di Schabola Under 14 in programma sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo al palazzetto dello sport Nicola Serafini E' importante partecipazione anche per due atleti dell'Olympic club d'introdacqua al terzo open dei Castelli Romani svoltosi nello scorso fine settimana al pala Bandinelli di Velletri che ha visto la presenza di circa mille atleti si tratta di Daniele Ottaviani e Gioiele Tollis che in gara nella categoria cadetti B sono arrivati entrambi alle fasi finali Ottaviani dopo aver vinto il primo incontro è stato sconfitto alle semifinali mentre Tollis è andato vicinissimo alla conquista della medaglia d'oro perdendo solo nella finalissima per il giovane atleta cintura nera è arrivato l'argento che gratifica il lavoro guidata dal maestro Emilcare Tollis Ottavo posto invece per Remo Palazzone per quanto riguarda la batteria dei 60 metri ostacoli ai campionati italiani di atletica leggera Complice una lentissima reazione dal blocco di partenza l'atleta sul monese Remo Palazzone dell'amatore Serafini e della quarta skill class del liceo scientifico Fermi è giunto soltanto ottavo nella batteria dei 60 metri ostacoli ai campionati italiani uniores di atletica leggera che si sono svolti nello scorso fine settimana ad Ancona la prestazione non premia nella giusta misura il giovane ostacolista che ha affrontato la più importante gara invernale indoor senza aver mai potuto correre quest'anno al coperto avrebbe avuto bisogno di un rodaggio continuo prima di partecipare alla competizione nazionale ad Ancona si tratta comunque di un'esperienza di rilievo nella nuova categoria juniores che servirà ad abituarsi ad ostacoli più alti rispetto a quelli che saltava negli allievi le attenzioni sono puntate ora sulla giovellottista Sara Scuderi che gareggerà il 7-8 marzo a Lucca ai campionati italiani invernali di lanci nella categoria allieve la giovane sulmonese ha ottenuto la qualificazione agli italiani grazie alla migliore prestazione abruzzese del 2020 nel lancio del giavellotto con la misura di metri 32,65 chiudiamo con lo dico al Tg domande segnalazioni curiosità sui notizie regione non solo che peschiamo sulla pagina facebook di Onda TV con la diretta live di Onda Tg mentre a Raiano si fanno tantissimi lavori grazie a Sisma a Sulmona siamo fermi al palo ci hanno scritto gli auguri all'avvocato Lando Sciuva e poi ormai a Sulmona non si festeggia più nulla anche la mascherina rischia di saltare e questo lo verificheremo ovviamente nei prossimi giorni quindi continuate a scriverci sui social e vi ricordo dopo di noi Abruzzo Notizie il punto bene davvero tutto per questa edizione Onda Ligi torna domani grazie per essere rimasti con noi a tutti una buona serata grazie per la visione